Casa della Salute presenta il dottor Claudio Lavarello, specialista in ecografie pediatriche. Benvenuto. Grazie. Intanto le chiediamo di raccontarci un po' il suo percorso e come nasce la collaborazione con Casa della Salute. Allora, il mio percorso è un percorso simile a quello di tanti altri specialisti che scelgono poi di approfondire la parte riguardante ovviamente il mondo della pediatria. Negli ultimi anni, come tante specializzazioni, anche la pediatria è diventata sempre più settoriale e ognuno di noi poi sceglie su che cosa poi ovviamente approfondire i propri anche interessi. Nel mio caso da sempre è stato molto importante per me l'aspetto della gestione soprattutto dei problemi legati anche proprio al parato muscolo-scheletrico e quindi alle problematiche che affliggono appunto questo tipo di sistema che è fondamentale per me perché permette al bambino di interagire, di giocare, di fare tutto quello che è fondamentale per lui per crescere. La mia collaborazione con Casa della Salute nasce proprio dal fatto che nell'ambito del mio percorso, proprio per la migliore gestione di questi aspetti ho approfondito molto l'aspetto dell'ecografia che mi permette anche di integrare la valutazione clinica con un dato oggettivo che è quello appunto ecografico e che è fondamentale appunto per poi impostare un adeguato trattamento. La figura del pediatra è una figura fondamentale nella crescita del bambino, a tutto tondo direi. A tutto tondo, il pediatra accoglie il bambino sin dai primissimi mesi di vita e dopodiché lo accompagna nella crescita. È fondamentale non solo per la crescita del bambino ma anche per dare ai genitori e a chi si prende cura del bambino gli strumenti adatti per permettergli un ambiente sano di crescita. Spesso e volentieri i bambini vengono valutati da noi pediatri non necessariamente per un problema o per una patologia specifica ma proprio per confermare che effettivamente lo sviluppo e la crescita sono regolari e che gli stanno consentendo appunto di arrivare ad essere dei grandi, sani. Perché sono così importanti le ecografie pediatriche? Beh, allora, innanzitutto l'ecografia è un esame di facile esecuzione dal punto di vista tecnico ed è anche molto accettato dal bambino che spesso e volentieri lo può vivere anche come un momento di gioco. In questo il fatto di avere una figura pediatrica specializzata nell'ambito ecografico è proprio legato a questo cioè permettere al bambino di vivere quel momento come qualcosa di ludico quasi, non necessariamente di medico e nello stesso tempo appunto aumenta anche quello che è il rapporto tra il medico e il paziente che per me è fondamentale. L'ecografia pediatrica non è così diffusa. Si può dire che casa della salute sia vicina ai propri pazienti? Assolutamente. L'ecografia è qualcosa che sempre di più negli ultimi anni è diventata un patrimonio non solo del radiologo che è chi appunto sceglie di fare un tipo di percorso formativo più mirato a questo tipo di ambito ma bensì è sempre più diventato un patrimonio anche del clinico e conseguentemente avere le figure che sono appunto formate sia dal punto di vista clinico che anche appunto ecografico è ovviamente offrire un servizio di grande livello pari solo a quello di centri molto importanti. Grazie al dottor Claudio Lavarello. Grazie a voi. Il dottor Claudio Lavarello riceve nelle sedi di Genova IV, Centro e San Benigno. Grazie a voi.